Congresso provinciale del Partito Democratico alle porte e intanto si scaldano i motori se da una parte c'è Carmine Valentino non intenzionato a mollare la guida del partito, dall'altro però insistenti si levano le voci che fanno balzare il nome di Antonio Jesce tra i pavabili competitor alla segreteria e proprio il componente dell'Assemblea Nazionale del Partito Democratico Jesce che sceglie i microfoni di Canale 58 per dire la sua in merito ad una questione che scalda gli animi. Siamo in piena fase congressuale per quanto riguarda il Partito Democratico Sannita, io sto valutando di scendere in campo come candidato segretario, ne ho parlato con diversi amici, con diverse amiche, diciamo che l'entusiasmo sta salendo sulla mia proposta, ne ho parlato pure col segretario provinciale Valentino, il segretario provinciale uscente, nel corso dell'ultima segretario provinciale dove ho invitato il segretario a non inserirmi nella commissione provinciale per il congresso, proprio perché non posso essere controllato e controllore. Ne ho parlato anche con il consigliere regionale Mino Mortaruolo che sta lavorando in modo encomiabile in regione Campania come unico esponente del territorio Sannita, quindi non è neanche tanto facile in consiglio regionale farsi valere, ma lui ce la sta mettendo tutta e sta portando a casa dei risultati. Ritornando al congresso provinciale sì, io sto valutando, mi sto vedendo con amici, con persone che vogliono cambiare questo Partito Democratico e come ho detto diverse volte bisogna iniziare a coccolare, uso proprio questa parola, l'ho usata in molte riunioni, coccolare il partito, bisogna ritornare sui territori, bisogna parlare nelle sezioni, nei circoli, devo dire che ultimamente i circoli non sono stati al centro dell'azione politica del Partito Democratico Sannita.